Musica 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 Eleonora Regina d'Arborea Il suo personaggio è uno dei più famosi anche uno dei meno documentati della storia sarda Eleonora nasce in Catalogna da Mariano IV di Basserra e da Timbora di Rocabertì ma trascorre la sua giovinezza nel territorio giudicale presso la piccola ma vivace corte oristanese Volemos e ordinamos che tutti gli abitanti delle regioni delle province e delle penne del giudicato si inchinino alla giustizia Donna dotata di grande volontà e di alto senso della giustizia deve la sua fama soprattutto al colta di leggi della Carta dei Lovu dopo lavoro di sapienza legislativa che fu in seguito estesa a tutta la Sardegna Facciamo le ordinanze e di capitoli infrascritti che vogliamo e comandiamo espressamente siano rispettati ed osservati quale legge sia in giudizio che fuori da ogni persona del detto nostro regno di Arborea grazie a tutti